Buonasera a tutti gli amici, vi voglio dire che oggi ho fatto il rientro per il lavoro dalle tre e mezza fino alle cinque e mezza. Sto andando verso casa, poi quando vado verso casa faccio un altro video che vi faccio vedere la colazione che faccio la mattina di solito. Quindi saluto il mio amico Raffaele Petruoli che mi sta guardando e quindi vi voglio dire questo grosso messaggio, video, gli dico Raffaele mi raccomando io ti voglio vedere che fai altri video per favore io lo so che sono abituato ai tuoi video però di quello che fai è meglio che fai un altro così vedo che sai spiegare la colazione, il pranzo e invece non avevo capito di che cosa sono fatto. Io da piccolo credevo a mio fratello che lui mi aveva fatto a me uno scherzo che a me piacciono tanto di scherzi, ora non mi piacciono più, invece mi ha fatto che mi ha detto Roberto perché non veni da me ho bisogno che mi aiuti e io lo stavo andando a dare una mano e io invece che cosa gli ho detto ma se non hai fatto niente che cosa pensi di fare e lui diceva sto facendo qualcosa che a te piace come costruire gli sushi cioè quello dice un amico celiaco che non può mangiare farina e invece è così e io invece sono fatto così a mondo mio ma quest'anno adesso ho vent'anni faccio tutto quello che mi piace fare poi quando arrivo a casa faccio un po' di cose e poi questo è uno dei miei nipotini che ogni volta che Simone viene in camera mia e mi dice porta porta e che vuole che io che lui si mette dentro alla porta dove stanno le mie camicie io io chiudo e io dico dove Simone dove lui apre io faccio eccolo qua e poi è bellissimo e divertente e il secondo Francesco ogni tanto fa lo scherzoso che cosa fa a me mi toglie le mie cover le mie penne da scrivere insomma non posso fare niente però a lui lo devo cercare di convincerlo a non farlo perché io soffro di vertigini sulle cose che non può toccare in camera mia perché perché è una cosa che c'ho nel mio studio in camera però sembra che sia per esempio una cosa è una cosa che i dei buoni nipotini fanno così mamma papà e mi sono a gridare che vogliono mamma e papà e quindi ma se vi è piaciuto questo video iscrivetevi al canale seguitemi su Instagram e invece mi raccomando fate i buoni quel pozzo è mio e la prendo quelle buone e quelle cattive beh alla fine vi dico ciao a tutti mi raccomando fate i bravi bambini e anche e soprattutto ai Raffaele per ruoli fai altri video per favore e voglio vedere come fai ciao a tutti vi voto su un gran bene